no dai siamo in orario siamo in orario non ci ruba nessuno ti portare questi panini i panini falsa allarme questa battuta sciorre la vigilia vediamo se ci porta qualche altro pesce io ho messo il saioris vediamo se hai preso sopra vero? no che dico sopra? ok 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 mucio lucir ora c'è un bel attacco 31 dicembre ragazzi in piena estate in piena estate altro che capodanno mi fai vedere per fare quel portagig? mi fai vedere quel portagig? fallo vedere bello 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 ragazzi chissà che oggi ci dobbiamo arrendere vediamo le emozioni no lo vuoi prima abbattuto o a metà del recupero? eh? antonio antonio sono luccica luccica guardate che magari cacciano hai capito? vai olex giugolo strike strike vai sebi che artificiale? eh già sui ok palamide alletterato alletterato? no no palamide palamide bello ok attivo eh a me ok abbiamo scappato dal sole io sebi modafferi e salvatore salvatore ha portato a fortuna salvatore ha portato a fortuna salvatore ha portato a fortuna il pesce l'abbiamo preso la siamo più tranquilli ok e mannaggia sposto perché stai qua? niente io ho raccolto tutto hai raccolto tutto sei sicuro? tutto 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 no qualche giug ho lasciato qua vabbè hai raccolto tutto vabbè io non è che vediamo bellissimo vedete che ho pagato la mia giug questo qua c'è daio ragazzi questo è il nuovo portagig della e lo kiti e ve lo consiglio questo c'è solo un pezzo unico e c'è il mio amico sebi modafferi ma com'è? modafferi modafferi un portagig fantastico questi miei giug buoni che ho questo è il mio toby me l'aveva fregato l'avevo lasciato sulla scogliera si vede quando si lasciano le cose come la testa ora ci faccio quello vuol dire in macchina questo è il toby vabbè figurati è pure rovinato ormai però è ancora catturante però guarda possiamo fare il baratto io ti do il toby e tu mi dai questo portagig esclusivo proprio comunque dai questa sessione di pesca è giunta al termine è un panorama che è veramente bello estivo una giornata quasi estiva bello bella giornata di pesca non fa per niente freddo si sta benissimo purtroppo quello che è mancato sono i pesci spettacolare vero salvatore? la giornata è spettacolare sono mancati i pesci vabbè uno uno l'abbiamo preso l'abbiamo scappottato e l'importante era questo certo il pesce oggi l'ha preso sebi ma in tutta l'estate gliel'ho lasciato prendere ho parlato prima col pesce quindi ho detto vai da lui per favore perché se no almeno conclude l'anno con qualche pesce un grande vabbè ragazzi dai chiudiamo questo video con questo bel panorama bellissimo un saluto da Scilla ciao buon anno a tutti ciao 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 Grazie.